Mio figlio Lorenzo mi disse di aver visto dei bacetti tra Guerrina e padre Graziano in canonica. A parlare Mirko Alessandrini, il marito della cinquantenne scomparsa da Caraffello il primo maggio 2014. L'uomo è stato sentito nel corso dell'udienza del processo a padre Graziano accusato dell'omicidio di Guerrina Piscaia. Una ricostruzione confusa e a tratti contrastante quella di Mirko che, incalzato dal PM Marco Dioni, ha ripercorso minuto per minuto il giorno della scomparsa. Nel viaggio verso Sestino, ha detto Mirko, chiesi a padre Graziano se avesse notato l'atteggiamento di mia moglie la sera prima con l'ambulante marocchino. E lui mi dispose, sarà innamorata di lui. Ha raccontato riferendosi al giorno della scomparsa in cui i due si recarono prima a Presciano, poi a Sestino, rispettivamente per un funerale ed una messa. Da lì Mirko ovviamente ha creduto che la Guerrina si era allontanata proprio con questo marocchino, c'era questa convinzione ed è qui che nasce tutta la situazione. Poi dopo però non dimentichiamoci che è lo stesso Graziano che conferma questa circostanza ai carabinieri, cioè che dice che Guerrina è sparita con il marocchino. Marocchino che poi è un soggetto totalmente strano ai fatti. La mattina del primo maggio Guerrina mi disse di chiedere a padre Graziano se sarebbe dovuto andare a cucinare il coniglio, ma lui disse di no. Ha poi detto Mirko aggiungendo che sarebbe stato il frate il giorno precedente a farle quella richiesta. Un episodio che assume una certa rilevanza se riletto alla luce del messaggio inviato da Guerrina al frate il primo maggio. Vengo in canonica, ti cucino il coniglio e poi facciamo l'amore. Poi si è passati al racconto sulla serata precedente alla scomparsa, quella della birrata con l'ambulante di Gubbio. Mirko ha raccontato che andò a comprare della birra lasciando in canonica Guerrina e padre Graziano e al suo ritorno ad aprire la porta fu la moglie. Proprio in quel momento Mirko notò un preciso particolare, uno spallino calato. Quello che lo ha colpito oltre questo è che la canonica veniva aperta sempre da padre Graziano, mentre quella volta fu aperta da Guerrina e padre Graziano non era lì e è avvenuto successivamente. Queste sono delle impressioni che è giusto che ha riferito la corte. Mirko è stato sentito dieci volte, circa sette, otto volte come persona informata sui fatti, due volte come persona indagata, non ha mai parlato né di bacini né di spalline discese. Quindi il primo problema che dovrebbe essere risolto è questo, come mai non ne ha mai parlato alle autorità né ai carabinieri né ai pubblici ministeri né quando era persona informata sui fatti né quando era persona indagata. È stato poi mostrato a Mirko il borsello ritrovato all'interno di un trolley nella camera del frate nella canonica di Caraffello, riconosciuto dalle sorelle della 50enne come appartenente alla stessa Guerrina. Il marito però non ha riconosciuto né il portafogli né il suo contenuto. Noi abbiamo già da tempo avanzato l'idea di una non corrispondenza al vero di certe affermazioni. Oggi ne abbiamo avuto la conferma perché Mirko ci ha detto che non ha riconosciuto né l'assorbente, ma di questo ne avevamo già avuto prova sentendo gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno fatto le perquisizioni e né il borsello.